buongiorno cosimo eccoci qua dai prendiamo una scia dai buona domenica vai che stanno andando piano dai ecco qua il nostro salvatore salvatore buongiorno devi fare un saluto in particolare salutiamo ad angela a lucia assia alle socie ciao buongiorno 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 qua abbiamo pure i cavalieri stamattina buongiorno venangio dove sta? è in ferie grande venangio qua abbiamo pure il capitano dei cavalieri quello che si impegna sempre di più è sempre il numero uno gentilissimo grazie allora stamattina un giretto a torrecaveda un caffè con noi è un piacere sempre cavalieri di tutto qua abbiamo un altro cavaliere bello affilato qua abbiamo il nostro lorenzo lorenzo devi salutare i soci di poca parola lorenzo voglio che non vede oggi abbiamo il capitano qua si differenzia con la maglia azzurra insieme all'eluccio buongiorno ciao domenico buongiorno ragazzi vi ringraziamo un saluto agli assenti a viaggio ma in particolare a domenico occhio a sinistra si vai 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 a sinistra stavo dicendo facciamo un saluto a domenico domenico a presto che vuoi laordine non è un saluto ai ci sorti a conoscenza non è un saluto a conoscenza Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Eccoci arrivati a Torre Caveta Ecco il nostro Lorenzo Sempre avanti a tutti Le nuove ruote Tanti auguri a Lorenzo Fantastico, fantastico Il nostro amico Ommaggiare alla ripresa Stamattina 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 fanno la tavola da self Stamattina 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 ciao a tutti buona domenica